Per alcune donne vincere un incontro non è un gioco. Per alcune donne un muro sbagliato è una condanna. Per alcune donne uscire a testa alta significa non aver paura. Per alcune donne avere una squadra è tutto. Ogni donna ha una partita da vincere, ma ce n'è una più difficile delle altre. Quella contro la violenza. Fai sentire la tua voce. Non sei giù. Lo Stato non ti abbandona. Vinciamo insieme la partita di tutti. Chiama il numero gratuito. 1522.